Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia, non so neanche da dove iniziare a parlarvi del video di oggi. Tutti abbiamo scaricato e giocato alla patch 7.40 e le novità ragazzi sia che abbiamo visto che quelle che stanno per arrivare sono incredibili. Siamo con gli amici ragazzi del gruppo Telegram Fortnite Italy, lo trovate in descrizione, un bel link per andare a farci un salto. Nel video di oggi ragazzi, innanzitutto voglio ringraziarvi come sempre, grazie di cuore per tutti quelli che shoppano di prepotenza con il mio codice XIUDERONE. Grazie per il mega supporto, ci tengo davvero a dirvelo. Nel video di oggi ragazzi parleremo nel dettaglio del Fallen Love Ranger, quindi il ranger oscuro, come lo chiamiamo noi in gergo. Parleremo anche dell'evento terremoto con una roba incredibile che è successa e che sta per succedere. Assurdo ragazzi, ovviamente grandi riferimenti anche alla stagione numero 8, visto che davvero i giorni passano velocemente e ci stiamo avvicinando tantissimo. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like se vi piacciono i miei video, ragazzi iscrivetevi al canale, cresciamo insieme e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e nessuna delle mie live. Ma ragazzi, la domanda ragazzi, la domanda ve la devo fare importantissimo, i vostri commenti, le vostre risposte qui sotto ragazzi, nella parte dei commenti. Ed è facilissima la domanda. Ma chi preferisci tra i due? Dai sentiamo raga, il Love Ranger o il Fallen Ranger? Ditemi un po' ragazzi, il mio preferito è il Love Ranger raga, mi piace un botto. Momentaneamente amo il Love Ranger, è troppo affettivo, non lo so, lo voglio vedere, lo voglio vedere il Ranger oscuro. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, rimaniamo nell'argomento Dark Ranger. Lo avrete già visto ragazzi, più o meno da qualche parte su Instagram, su Twitter, su YouTube. Questo è il Dark Ranger, la sua skin, eccola qua, con tanto di backpack che non sono altro che le ali oscure e, come vedete ragazzi, una serie di sfide che confermano essere sfide con premi dei V-Bucks. Ve ne avevo già parlato un qualche giorno fa ragazzi, non avevamo ben capito durante l'uscita della patch che fine avesse fatto il Dark Ranger. Adesso ragazzi, le cose sono chiare. Il Dark Ranger, purtroppo, anche se in realtà non così tanto, eccolo qua ragazzi, sarà un pack acquistabile. Alcuni utenti di Xbox One lo hanno già disponibile nello shop, ma non lo possono ancora shoppare e, come vedete ragazzi, costerà 20 dollari, ma ci darà la possibilità di ottenere 2000 V-Bucks. Ci sta, raga, dai, ci sta, alla fine non spendiamo niente, ci regalano semplicemente, boh, nel senso, ci sta, 2000 V-Bucks, con una skin che probabilmente è leggendaria, con il suo backpack e sono convinto che mano a mano che andremo avanti nella season 8, arriveranno il deltaplano, il piccone, magari la camo per i veicoli e per le armi, visto che è uscita oggi quella del set cuori reali. Insomma ragazzi, 20 dollari, che dovrebbero essere intorno ai 19,90 o massimo 20 rotti euro per noi, per ottenerla. Quindi aspettiamo che arrivi disponibile per tutte le piattaforme, non preoccupatevi che vi terrò aggiornati al completamento delle sfide. Ci verrà dato anche il banner, ragazzi, quindi lo standardo che potremo utilizzare tranquillamente nel nostro Battle Royale. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo dell'enorme crepazza che si è presentata tra Tempio Tometo e Bosco Blaterante, ragazzi. Questa è un'immagine incredibile, l'abbiamo scoperta, io l'ho scoperta per caso, proprio mentre ero in chiusura nella live di ieri sera, siamo rimasti a bocca aperta tutti ed è assurdo, ragazzi, è davvero un qualcosa di assurdo. La mappa non si dividerà probabilmente a metà, ma era proprio come Donald Mustard aveva detto, ve l'avevo fatto vedere qualche giorno fa, è una porzione, una bella porzione di mappa si staccherà pian piano dalla mappa centrale, cominciando quindi a dividerla in due grandi ambienti, e chiamiamoli così, ovviamente comunicanti con i nuovi veicoli che presto verranno proposti nella season 8. Vi voglio già dire un mini spoiler, senza farvi vedere nulla, perché le robe sono davvero tantissime, con calma saprete tutto, è confermato che il tema della season 8 sarà l'acqua. Non vi dico altro, ragazzi, abbiamo delle immagini super interessanti, questa, ragazzi, è un'immagine super interessante, la schermata di caricamento che dovrebbe esserci data al completamento della sfida numero 12 di quelle che sono uscite praticamente ieri. Ne sono uscite 5, ce ne sono 13, completandole tutte e 13 otterremo il pass battaglia gratuito, eh, della season 8, nel senso, ci daranno gratuitamente il pass battaglia della season numero 8, ci daranno anche questa schermata di caricamento che racchiude in sé una figata incredibile, ben più di una figata incredibile. Innanzitutto, quarta fase del prigioniero. Ne parleremo più avanti, dove bisogna andare per fare la quarta fase, com'è il discorso, ragazzi, ma guardate che cavolo c'è nei file di gioco. Round Wave, quello che leggete a destra, ed è sotto nella sottocartella Tornado. E come state vedendo, ragazzi, il prigioniero sta creando un vortice. Guardate se è un po' sopra qua, vedete l'effetto del fuoco che comincia a creare un vortice. Guardate, ragazzi, prot! E c'è che c'è che cavolo è voi un cesso. No, ragazzi, quello che state vedendo è una texture in lavorazione nei file di gioco, che ve la faccio vedere meglio qua, ed è il vortice, il tornado, che si creerà e che sarà probabilmente l'evento che dividerà la season 7 dalla season 8. Un tornado, una crepa, scosse di terremoto fino a pochi giorni fa. Beh, ragazzi, beh, ragazzi, che cosa volete di più? Volete di più? Porco Giuda vi fa... Guarda qua, prot! Ci sarà la lava, ragazzi. Questa è una piccolissima parte di codice e, come leggiamo, surface type lava. Vuol dire che arriverà nella season 8 un nuovo tipo di superficie, probabilmente calpestabile, non lo sappiamo, ragazzi. e sarà la lava. Quindi confermato a questo punto il vulcano al 100%. Non sappiamo quando apparirà, dove apparirà. Abbiamo solo visto quella crepa enorme, assurda, tra le altre cose, e sappiamo davvero tantissimo. Io vi invito a stare veramente molto attenti per i video che vi caricherò nei prossimi giorni per non perdere il filo logico di tutto quello che potrebbe succedere andando avanti con i giorni della season. Prima di salutarci voglio parlarvi di una figata, ragazzi. Questa è un'immagine incredibile. Una Renegade Raider con tanto di super piccone oggi. Ma la cosa davvero particolare, ragazzi, è quel backpack. L'abbiamo riconosciuto sicuramente. è il portale oscuro, il backpack che ci viene dato con l'acquisto dello school trooper. Ma è viola. Come fa ad essere viola? Sembrerebbe che, collegando due account, come abbiamo già visto, che si può fare da una settimana a questa parte, se uno dei due account ha lo school viola, quindi acquistato due anni fa, oramai, perché parliamo del 2017, si potrà ottenere il backpack portale oscuro viola. Quindi, ragazzi, tanta, tanta roba. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto. Ciao!